Dopo le prime positive aperture di settembre all'insegna di mostre artistiche, Casa Bucci, punto di riferimento storico della produzione ceramista pesarese, prosegue la sua crescita dal luogo centrale delle condizioni artistiche e culturali cittadine. Da fine marzo infatti partiranno tutta una serie di eventi che correranno paralleli all'obiettivo prioritario del ripristino dell'archivio di Casa Bucci. Ridare a questo spazio le caratteristiche, ritrovare le energie che ci sono sempre state nei 50 anni in cui è stato occupato dal laboratorio di ceramiche, dalla vendita da mio padre e da mia madre e soprattutto rendere pubblico, fruibile e condiviso l'archivio storico delle ceramiche di mio padre che è di circa 5.000 pezzi che vanno dai primi anni 60, anzi da fine anni 50 al 2002, anno in cui è mancato che purtroppo nel maggio del 2023, il 16 maggio, è stato pesantemente danneggiato dall'alluvione che ci ha colpito. In pratica il 2024 principalmente sarà, l'oggetto sarà il ripristino e il restauro dell'archivio. Cosa significa? Significa che dobbiamo spostare 5.000 pezzi storici da un locale che è stato alluvionato e renderli fruibili, ma prima di renderli fruibili, lavarli, sistemarli, ricatalogarli, eccetera. Siccome sarà un lavoro che vogliamo rendere pubblico, chi entrerà vedrà lo stato dell'arte o ci potrà dare anche una mano se vuole, abbiamo pensato di incastrare, diciamo così, tutta una serie di eventi. Quasi una scusa, l'archivio è quasi una scusa per poter fare eventi e poter avere persone che ritorni, come ha detto mia madre, a essere un posto condiviso e uno spazio che ci permetta di portare avanti tante idee, che non siano solo quelle nostre ma anche di tante persone che ci stanno vicine. Gli eventi di Casa Bucci si legheranno a doppio nodo con ogni espressione artistica, a cominciare dal 23 marzo con il progetto di Spazio Gege per ricordare Eugenio Giordani, passando ad aprile per un legame stretto con la settimana da capitale della cultura di Fratte Rosa e a maggio con la musica degli area all'interno della rassegna musicale playlist di Amat. Tutto un insieme di interconnessioni che partono da Casa Bucci e che ci regaleranno un grande 2024, ma con l'idea di iniziative che possano essere replicabili, cambiando magari natura, pelle, ma non terminare con il 24, ma gettando basi per un luogo vero e proprio della cultura restituito, tra l'altro anche sulla strada per la Romagna, quindi con una certa visibilità e raggiungibilità, un vero e proprio nuovo luogo culturale della città.